Il sindaco di Giffoni Segasali, Francesco Munno, sabato pomeriggio è intervenuto presso la Pineta Sant'Anna nel casale di Capitignano per domare un incendio che avrebbe potuto creare seri problemi alla fauna e alla flora presenti. Ad allertare il primo cittadino alcuni residenti della zona, che avrebbero più volte sollecitato i vigili del fuoco prima di avvisare telefonicamente il sindaco. Munno si è subito recato in Pineta per rendersi conto di persona cosa stesse accadendo. Qui, con l'utilizzo di una fontana e del supporto di un secchio, ha spento l'incendio sul nascere. Nell'operazione di spegnimento, oltre al sindaco, hanno contribuito il consigliere comunale Gerardo Marotta e alcuni cittadini. Ho fatto solamente il mio dovere, ha detto il sindaco. Incerta la causa che ha innescato il piccolo rogo.